Tu conosci il mio Chris? Sì, è noto a tutti i Veterniani. Ti farò urlare, demone. Dalla gioia, perché avrò preso la tua vita. Voi appartenete al regno occulto. Vuoi farmi strada all'inferno? Vedi di sparire nelle tenebre, Nithara. Non sarai certo tu a bandirmi. Ti ritieni meno malvagia di me, Ashra? Ovvio, perché ho esposto la mia anima alla luce. Distruggendo Veternus mi assicurerò l'ascensione. Commettendo un genocidio, espierai le tue colpe? Veternus non ti ha fatto torto. Questo non rende le sue malefatte meno empie. Ruberò da tuscia e lo userò per ucciderti. Provaci se hai coraggio. Per aver aiutato Shang Tsung ti ucciderò. Morirai prima di poterti vendicare, Baraka. Perché vuoi difendere un regno che ti odia? Ero un soldato di questo regno. È una cosa che fa parte di me. Gli esterni odiano la tua stirpe più di quanto odino la mia. Proprio per questo dovremmo allearci. Veternus non prova vergogna per il dolore che infligge. Tutto è lecito se serve a sopravvivere. I Tarkatan non sono appetibili per i Veterniani. Bene. Il mio male ha anche dei pregi. Perché non mi aiuti a rapire altri terrestri? E condannarli a un destino peggiore del mio. La tua malattia è congenita? Ti sfido a scoprirlo. Mio padre è morto in battaglia sui campi di Cessna. Comprendo il tuo disprezzo, Baraka. La storia sarà severa con la congrega. Solo se sarai tu a scriverla. Che cos'hai contro la congrega? Chi la guida ha condannato Veternus all'autodistruzione. Ci deve essere una dimensione in cui Veternus domina. Può darsi, ma non si tratta certo di questa. Veternus non cederà mai. Perché questa linea temporale dovrebbe essere diversa? Ci ha creato Liu Kang. Devi aiutarci. Il vampirismo non era nei suoi piani. Non potete sfuggire alle vostre scelte. Il destino non è scritto, Geras. Ci sono molti altri modi per sfamare Veternus. Significherebbe rinunciare all'immortalità. Abbandonate il vampirismo e Veternus sarà salvo. Non rinunceremo alla nostra identità. È un vero peccato non esserci accordati. Dici? Questo scontro voglio godermelo. Rain mi assiste! Perché tu no? Non aiuta la mia causa, Avik. Nella capitale di Seido ne ho fatti fuori a migliaia. Che orribile spreco di cibo. Ci forniresti dei Seiden per la riproduzione? È una punizione adeguata per i miei oppressori. La tua congrega andrebbe rovesciata. Nessun Veterniano le si opporrebbe mai. Prima di incontrarti non conoscevo Seido. Perché anche il tuo regno disprezza i forestieri. Un rubanime è sopravvissuto. Dove si trova, Nitaro? Quan Chi ha un'offerta da proporci. Non mi fido della sua parola. Avvicinati a Cristina e scoprirai nuove vette di dolore. Ho toccato un nervo scoperto, vero? Non sei così un pugno nell'occhio. I complimenti non ti salveranno, terrestre. Perché le vampire sono sempre così sexy? Per potervi sedurre meglio. Cosa c'è di più letale di un Veterniano? Kung Lao dopo una cena da Madame Abo. Non puoi crederci. Le storie di vampiri non invecchiano mai. Nemmeno i Veterniani, terrestre. Certo che posso volare. Ho un paio d'ali. Credevo ti limitassi a cadere con stile. Ormai la terra è spacciata, Cage. Veternus... Che ne dici di tagliare il monologo e andare avanti? Ali, Sanne... Ragazza, avrai un sacco di premi. Sono lusingata di piacerti, Cage. Non ti incuto alcun terrore. Ho visto di peggio nei weekend sul Sunset. Devi proprio stare sempre al centro dell'attenzione. Sai com'è? Ero un adolescente melodrammatico. Ti succhierò il sangue. Ci ha già pensato la mia ex, col divorzio. Non ti incuto alcun terrore. Ho visto di peggio nei weekend sul Sunset. Perché le vampire sono sempre così sexy? Per potervi sedurre meglio. Le storie di vampiri non invecchiano mai. Nemmeno i Veterniani, terrestre. Ormai la terra è spacciata, Cage. Veternus... Dici di tagliare il monologo e andare avanti. Non eri allergica alla luce solare? Grazie a Quan Chi. Adesso non lo sono più. Sono qui per sfamarmi, terrestre. Ci servirà un'ammazza vampiri. Veternus ha assalito il regno della Terra secoli fa. E da dove pensi che sia nato il mito dei vampiri? Sì, sarò l'ultima persona che vedrai. Sono cieco, ricordi? Dimmi dove trovare Shang Tsung. E perché dovrei saperlo? Non riuscirai a venire sulla Terra. Ne sei certo, Quan Chi? Perché dovrei temere uno spadaccino cieco? Lo scoprirai molto presto. Prima ti ucciderò, poi spedirò il tuo corpo a Liu Kang. Fai pure. Rafforzerai la sua determinazione. La congrega mi ha dato ordini precisi. Peccato che la tua missione fallirà. Rifiuteresti il dono dell'immortalità? Sì, se significasse vivere come te. Millenni fa i nostri regni erano alleati. Poi il mio si è evoluto oltre il tuo. Vuoi scatenare l'ennesima guerra tra regni? Speri che ti riveli i miei piani? Nel nome di Enshar, oggi io... Mi spiace, non compiacerai il tuo Dio. Se userai minacciare mia sorella, io... È troppo tardi, principessa. Hai tramato contro la mia famiglia. Meglio far soffrire la tua che la mia. Perché presumi che Veternus sia un inferno? Deve esserlo per forza, se ha generato te. Cosa ne hai fatto del corpo di Jen? Povero Kung Lao. Purtroppo non la rivedrai mai. Non sei il campione della Terra. Solo perché Raiden ha avuto fortuna. Se il tuo popolo sta morendo di fame, perché tu sei qui da sola? Sopravvivere fuori dal regno non è da tutti. Madame Bo mi ha insegnato a combatterti. Sono insegnamenti vani. Tutti quanti i Veterniani hanno le ali? Tutti quanti i terrestri fanno domande così stupide? Ti prosciugherò di ogni certezza. Impossibile, Nitara. Ne ho fatto scorta. Ti destineremo alla riproduzione. Ovviamente. Per la Terra è finita, Kung Lao. La mia gente... Johnny lo diceva. Hai la fissa dei monologhi. Macellare il bestiame è forse un omicidio? Gli esterni non sono carne da macello. Essere affamati non è un crimine. Lo è se ti nutri di persone. Non vogliamo Veterniani nel regno esterno. Non sperare che questo basti a fermarci. Ci sono altri come te, Asundo. Lo scoprirai quando sarà troppo tardi. Avrai notato tutte le persone scomparse. Non pensavo che finissero in pasto a voi. Al regno esterno non mancheranno i suoi criminali. Non li lasceremo comunque a voi. Ho un mandato d'arresto a tuo nome. Vale meno della carta su cui è stampato. I tuoi anziani sono stati miopi. Questo non significa che noi meritiamo di morire. Così Veternus non sopravvivrà a lungo. A meno di non trovare altre fonti di cibo. Potevi aiutare Veternus, ma ti sei rifiutato. Non sta certo a me proteggerlo dalla sua tracotanza. Voler ottenere l'immortalità è l'onta suprema di Veternus. Il tuo biasimo è irrilevante, Liu Kang. La congrega ha totalmente traviato Veternus. Nessun altro ha mai difeso i nostri interessi. Devi abbracciare la fede e la speranza, Nitara. Non significano nulla per me. Non è colpa nostra se moriamo di fame. Solo Veternus è causa del suo male. Sono certa che possiamo trovare un accordo. Mi spiace, ma non posso fidarmi delle tue parole. Aiutaci, o ci sfameremo con i terrestri. Non accadrà niente di ciò che dici, Nitara. Per aver aiutato Shao, verrai scorticata viva. E gli assetati di sangue saremmo noi Veterniani? Con la tua morte, il governo del regno esterno cadrà. Non sottovalutare mia sorella, Nitara. A che cosa sei disposta per riavere Kitana? È in mano tua, Nitara? Meglio ammalata di Tarkat che essere Veterniana. Hai ereditato il trono e la faziosità di tua madre. Voglio che mi riveli i piani di Veternus. Ciò che tramiamo nell'ombra è affar nostro. Il mio esercito può ancora arginare le mire di Veternus. La tua spavalderia sa di paura, Imperatrice. Senza aiuto, noi Veterniani finiremo con l'estinguerci. E tutti i regni ne gioirebbero. Se io sono un mostro, lo sei anche tu. Noi due non abbiamo nulla in comune. Siamo dello stesso sangue. Il mio è superiore. Insieme possiamo dissanguare i regni. E così sfamare la Veternus di entrambe. Sei la campionessa del tuo Veternus? No, sono a capo della sua congrega. Non ci accoglierete nel vostro regno? Abbiamo già troppe bocche da sfamare. La congrega vuole interrogarti. Un desiderio che resterà disatteso. Anche il tuo Veternus è arido. Abbiamo saputo contenerci. Ancora non ci credo che esistano creature come te. Creature? O forse intendevi mostri? Sappiamo che avete rapito dei terrestri. E sapete anche qual è il motivo? Senza l'amuleto del fulmine non vali nulla. Dichiarazione azzardata, Mitara. Minaccia Feng Jian e io... Non riuscirai a fermarmi. Veternus è deprimente come dicono? Non dare peso alle bugie e alle calunnie. Pronto a combattere, campione? Ovviamente. Liu Kang doveva concederci quei terrestri. Non sottoporrà mai la sua gente agli orrori del tuo regno. Se siete immortali, ma continuate a procreare... Hai capito il fulcro del problema. Mi hai delusa anche tu, idromante. Prenditela con il generale, non con me. Torneresti utile alla congrega. Non sono degni di me, Mitara. Oltre all'acqua controlli anche il sangue? È un quesito interessante, Mitara. Sembra sempre che voi esterni vi sentiate superiori. Rispetto ai Veterniani, lo siamo. Perché voi Veterniani avete le ali? Se vedessi la nostra terra, capiresti. Perché servivi a Quan Chi? Perché Veternus padroneggia magie che nemmeno immagini. Potrei aver frainteso la tua specie. Frainteso? Senza alcun dubbio. Finché avrò forza in corpo, ti combatterò. Peccato che non ti basterà. Siamo riusciti a respingere ogni incursione di Veternus. La conquista non è più il nostro obiettivo. Speravo che potessimo restare da soli. Per divorarmi, immagino. Vi servirà un aiuto per rovesciare Milina. Questa volta il generale non ha bisogno di te. Adesso ti renderai conto che siamo in guerra. Non vedo l'ora, Nitara. Kasomira aveva infastidito il generale. Ed è per questo che l'ha uccisa. Hai rotto la nostra alleanza. Su ordine del generale, Nitara. Ti prometto una morte rapida. Promessa non ricambiata, Reiko. Veternus non è l'abominio che immagini. Eppure si ha generato te. Devo dire che non mi aspettavo una Veterniana. Come neanche di morire per mano sua. I Veterniani non si sono mai cibati di rettiloidi. Devo sentirmi offeso o sollevato. Ti ricordo qualcuno per caso? Tu mi riporti alla mente il più orrido esperimento di Shang Tsung. Se la mia specie ottenesse il potere di mutare forma... Nessun regno sarebbe più al sicuro. Questo scontro l'avrei evitato. Fai bene ad avere paura. Sei un incubo diventato realtà. Per altri, sono un sogno. Se volevi sfamarti ai danni di Shang Tsung, lui non è qui. Onestamente, io volevo assaggiare proprio te. Vendicherò i caduti. Invece morirai come gli altri, Scorpion. Superiamo il tuo clan dieci a uno. Ciò nonostante, ne usciremo comunque vittoriosi. Se provassi a nutrirti di specie inferiori... Gli umani sono una specie inferiore. Così condannerai Veternus all'estinzione. Il mio reame non morirà perché il tuo possa vivere. Se soltanto conoscessi la fame, non ci giudicheresti. La conosco. E anche bene. Quindi Bi-Han sta lavorando al tuo fianco. Ho avuto alleati ben più strani. Resterai a bocca asciutta, Litarra. Non me ne andrò senza essermi nutrita. Sei saporito quanto sembri? Mi spiace, ma non lo saprai mai. Che cosa non darei per il dono del volo? Le tue magie da mutaforma, magari? La somma anziana esige una compensazione. Non sa che da una rapa non si può cavare sangue? Speravo di meglio dalla nostra collaborazione. Non esiteresti a sacrificarmi. Se solo scoprissi perché il sangue vi rende immortale. È un segreto che non ti rivelerò. Allearmi con te è stato uno spreco di tempo. V'Eternus adesso non può tirarsi indietro. Riferisci alla congrega che mi serve aiuto. Tiri troppo la corda, Shang Tsung. Hai molti talenti, ma resti un ciarlatano. È un giudizio sommario, Nitarra. Com'è possibile che tu non abbia capito chi fosse Damashi? La mia versione titanica è una maestra negli inganni. Le tue grandiose idee erano solo illusioni. Non mi arrendo, Nitarra. Tu conosci la battaglia dei campi di Cessna? So solo che hai fatto strage di Vetermiani. Kasomira era tua madre. Ed era la più valente ammiraglia dell'intero Vetermus. Dov'è il sangue che ci hai promesso, generale? Era solo un'ipotesi, Vetermiana. Se mi odi perché ti sei unita a me. Mi tornavi più utile da vivo che da morto. Una volta, imperatore, io farò... Ulteriori vuote promesse. Scordati il mio aiuto da ora in poi, Xiao. Non l'avrei chiesto, tranquilla. Quella farsa di colpo di stato ha fiaccato il regno. Non farti strane idee o ti annienterò. Tu non ripudi la guerra, imperatrice. Gli esseri come te non mi lasciano alternative. Non intendo piangere la fine dei tuoi pari. Che ne è dell'addio al regno esterno meno crudele? La tua presenza mi fa sentire sporca. Sentimento reciproco, imperatrice. Restituisci le persone rapite. Ora appartengono a Vetermus. Non accetto che Xiao abbia tramato al tuo fianco. Un pregiudizio disdicevole, imperatrice. Ci sazieremo con il vostro sangue. Il regno esterno non è il vostro pascolo, Arpia. Il tuo impero è solo un castello di carte. Eppure non crolla nemmeno dopo millenni. Perché non concedi a Vetermus di sfamarsi? Preferisco che muoia piuttosto. Dimmi quanto a lungo hai già vissuto. Ero bambina quando voi terrestri avete scoperto il fuoco. Perché il tuo clan intralcia il mio cammino? Perché per noi ogni vita terrestre è sacra. Dovevo ucciderti alla fortezza di Ying. Non hai potuto allora. E non puoi adesso. Ashera ti sta dando la caccia. Allora le auguro di non trovarmi. Dimmi, che cosa ti ho fatto, Nitara? Il sangue giovane è sempre il più nutriente. Non farai di me la tua prossima cena? Certo che no. Sei solo l'antipasto. Per noi Vetermiani e gli umani sono un po' come per voi maiali. Non potevi fare un paragone peggiore. La congrega può darti l'immortalità. Chi mai la vorrebbe, scusa? La somma anziana agogna il sangue del Lin Kuei. Può scordarselo, Nitara. Non intendo mettere piede a Veternus. Se lo facessi verresti divorato. L'immortalità è uno sbaglio. Non era tuo fratello quello di corte vedute? Ti faccio forse gelare il sangue? Neanche una goccia, Nitara. L'avanzata di Veternus è inarrestabile. Ne trafiggerò il cuore con un paletto. Ignorami con freddezza e berrò il tuo sangue caldo. Forse Shao ti avrebbe aiutato, ma io non lo farò. Pronta a perdere ancora? Pronta a vendicarmi, Sub-Zero. Potreste aiutarci a catturare gli Shirai Ryu? Soltanto alle giuste condizioni. Il tuo sangue sarà molto nutriente. Non ne assaggerai nemmeno una goccia, Nitara. Aiutando Shao ti sei inimicata, Milina. Non ho paura di lei, Umgadi. Mi hai trovata esterna. E adesso? Adesso ti ucciderò, vampira. Hai la ferocia di una Veterniana. Che resti l'unica cosa che abbiamo in comune. Cerchi l'imperatrice. Dovrai passare sul mio corpo. Con estremo piacere. Ti combatterò fino alla morte. Dovrai aspettare meno del previsto. Spero per te che tu sia in pace col tuo Dio. Il sangue versato oggi non sarà il mio. Le Umgadi studiano le arti marziali di Veternos. Oggi non basteranno a salvarti. Il sangue versato oggi non sarà il mio.